Voltiamo ora a pagina perché ha parlato di crisi, lavoro e solidarietà il segretario generale della Cisla di Bergamo, Ferdinando Piccinini, ospite ieri sera in un incontro organizzato dalla Comunità del Pane all'Oratorio di Ponte Nossa. Lo abbiamo intervistato. Questa crisi ha accelerato i processi di cambiamento che già erano in corso da alcuni anni. Il vero problema è che senza un intervento sullo sviluppo, sul ripensare le condizioni dello sviluppo in Valle Seriana, il rischio è che questa crisi abbia ripercussioni sociali molto preoccupanti. Tenga presente che a rischio dei posti di lavoro per il solo settore meccanotessile in Valle Seriana sono 4.000. Se poi bisogna raggiungere anche tutto il tessile, abbiamo proprio un pezzo di economia che rischia di sparire. Quindi il tema vero è come, da una parte, aiutare le persone coinvolte in questi processi, attraverso ammortizzatori sociali da un lato, ma anche attraverso politiche di riqualificazione. Dobbiamo dimenticare che in Valle Seriana ha uno dei tassi purtroppo più bassi di istruzione e formazione. C'è un problema soprattutto di lavoro femminile e quindi occorre fare un'intensa azione di riqualificazione, soprattutto dall'opportunità di avere nuove prospettive. Dall'altro occorre però lavorare adesso sullo sviluppo, su quali sono fattori di innovazione per rilanciare l'economia della Valle. Senza questo il rischio di uno graduale spostamento dello sviluppo economico, anche in provincia di Bergamo, più sulla pianura che sulle valli. Quindi il rischio vero è quello di uno spostamento anche dalla popolazione. E' per questo che occorre mettere subito insieme anche tutte le parti sociali, le istituzioni, per vedere quali sono i fattori e come incentivare la creazione di nuovi lavori. Non è vero che il tessile non ha futuro, neanche in Valle Seriana o in Manifattoria. Certo occorre un tessile ovviamente molto più specializzato. Ci sono settori interi del tessile tecnico che avrebbero futuro. Il problema vero è trovare anche forme di incentivare anche la creazione di nuove imprese sul territorio della Valle. Questa è una sfida che ci attende nei prossimi mesi. Siamo a Ponte Nossa dove l'amministrazione ha avanzato un'idea molto particolare e ben precisa su un'area di smessa che è quella dell'ex cantoni. Come vedete questa operazione? La vediamo con interesse. Abbiamo appoggiato anche l'azione del sindaco Capelli che è un'area storica importante come l'area dell'ex cantoni venga comunque salvaguardata come prospettiva manifatturiera. Il problema dell'area Valle Seriana è un problema anche di tutte le rilevanti aree di smesse che ci sono che dovrebbero essere riutilizzate in funzione di una nuova industria, un nuovo terziario molto più innovativo. Riteniamo che la Valle Seriana abbia anche le capacità imprenditoriali ma anche professionali per fare questa scommessa. Il problema vero è puntarci e avere risorse per garantire questo sviluppo.